Dopo due giorni di protesta dei lavoratori della CMS, ora sono i dirigenti aziendali a parlare attraverso una nota. La direzione precisa che l'azienda sta pagando regolarmente le retribuzioni, anche se negli ultimi due mesi in due rate, che ha sempre avuto un confronto aperto e leale con tutte le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. Su richiesta delle organizzazioni sindacali, si legge nel comunicato della direzione, sono stati programmati incontri nelle singole unità produttive per i giorni 27 e 28 luglio, in modo da poter affrontare anche problematiche specifiche dei sei diversi siti. E a Morra de Sanctis l'incontro è stato convocato per lunedì alle 11.30 a conferma della massima attenzione riservata a questo stabilimento. Per oggettive, ragioni ostative e ampiamente spiegate, non è stato possibile anticipare l'incontro e ciò ha innescato immotivate e pretestuose azioni di protesta che riguardano un solo stabilimento. Tutto ciò ha provocato un danno d'immagine per la società, che lavora per importanti clienti, mettendo così a rischio la continuità produttiva. Considerata l'attuale situazione, la direzione CMS conferma la disponibilità all'incontro di lunedì prossimo, a condizione che cessi l'astenzione dal lavoro e si riserva di agire legalmente in caso continuino ad essere diffuse false informazioni. Ieri pomeriggio, intanto al termine dell'Assemblea dei Lavoratori, che si è tenuta presso lo stabilimento al Tirpino, all'unanimità è stato deciso di sospendere lo sciopero in attesa dell'incontro di lunedì.